partita la fiera di san nicola con obbligo di green pass altro episodio di baby gang a muraglia minori derubano coetanei aree interne più connesse si estende la banda ultralarga scuola vele bagni pubblici in una riqualificata struttura di baia flaminia a tutti voi telespettatori e telespettatrici di rossini tv che come ogni sera ci seguite sul canale 633 delle digitale terrestre per i trovati a rossini news il nostro telegiornale che in questa edizione di venerdì 10 settembre apriamo parlando della fiera di san nicola che a pesaro è tornata oggi dopo un anno di stop dovuto alla pandemia oggi è fiera che si proterrà anche nelle giornate di di domani sabato 11 e di domenica 12 settembre tre giornate con parecchi espositori in meno rispetto all'ultima edizione quella del 2019 e soprattutto con i controlli al green pass obbligatorio per accedere alla fiera vediamo 10 11 12 settembre 430 espositori 26 varchi in cui a campione può essere richiesto il green pass obbligatorio per accedere all'evento sono questi i numeri e i vincoli di una fiera di san nicola che da questa mattina è tornata ad affollare il lungomare di pesaro dopo un anno di stop imposto dalla pandemia e si è ricominciato con una cura dimagrante fra gli stand erano circa 700 nell'ultima edizione 2019 oggi sono parecchi di meno 450 quelli stimati giorni fa 430 quelli risultati all'ultimo appello di oggi defezioni motivate anche da norme di sicurezza e green pass che non convincono del tutto ma che lo ricordiamo dal 6 agosto prevedono a termini di legge l'obbligatorietà delle certificazioni in eventi come le fiere qual è quella di san nicola naturalmente la fiera è un evento aperto che concentra quasi per intero la zona mare pesarese e allora ecco che per chi transita in questa zona senza accedere agli stand ma semplicemente per un ultimo weekend in spiaggia o per andare in bar ristoranti o negozi il green pass non è richiesto ma per evitare incomprensioni è consigliabile transitare nei marciapiedi o alle spalle degli stand è giusto non è vincolante comunque qui non l'hanno controllato finora fanno ho visto che fanno a campione per me non è un problema ma io sono contenta di averlo e invito tutti a prenderlo tanti pesaresi si sono fatti trovare pronti alla prova della certificazione verde controllata a campione ma anche i turisti si sono presentati alla fiera ben informati sull'obbligo in questione abbiamo andato in albergo si è stato controllato mi sono trovato bene il posto è ottimo la fiera è ottima non posso lamentarmi è però bene ricordare che in questi tre giorni anche per chi non va alla fiera ma transita in questo tratto di lungomare è richiesto l'obbligo di mascherina anche all'aperto controlli dunque attivi con steward e polizia locale che hanno allestito un loro quartier generale fra viale zara e viale trieste controlli al green pass e controlli anche ai venditori abusivi per il resto i protagonisti sono quelli di sempre cittadini e turisti tornati agli acquisti alla fiera di san nicola dopo un anno di assenza e gli stand dei tanti espositori commercio in commercio di ogni genere oltre ai tanti punti di ristoro tutti gli anni veniamo qui molto soddisfatti perché è una fiera che si lavora però quest'anno con questo green pass non so come se viene la gente se non viene non lo so questo green pass ha condizionato però la vostra scelta gli altri fiere che abbiamo fatto assolutamente no abbiamo fatte altre in tante regioni lo chiedono in tante no basta portare la mascherina e senza chiedere green pass per io perché faccio anche mercato a peso nel martedì e anni che vengo a peso ma è più di 40 anni il green pass si ci ha creato dei problemi io sinceramente la fiera san nicola non l'ho fatto per questo problema qui green pass ho provato a farlo a pesaro per vedere come come viene solo che è un problema per noi è grave il problema nostro è sempre con l'attenzione chiede alla gente di stanza non molto appiccicato varie cose non va bene speriamo dai che sia l'ultima perché il green pass ce l'abbiamo tutti ci stiamo vaccinando ci stiamo però uno che si vaccina una volta due adesso parliamo anche la terza però questo qua è quello che danneggia di più nel modo di parlare con le persone dimostrarci tutto tutto qua questi dunque i pareri del primo giorno di fiera il secondo invece avrà un ospite d'eccezione in più il camper vaccinale che nella giornata di sabato offrerà servizi di vaccinazione dalle 8 e 30 alle 13 e 30 dalle 14 e 30 alle 20 ci si può presentare compilare i moduli e vaccinarsi senza prenotazione una modalità di vaccino che sta riscuotendo buoni riscontri fra gli ultimi ritardari della profilassi e vaccinarsi in questo contesto significa istantaneamente ottenere il green pass anche per accedere alla fiera di san nicola la stessa certificazione si può ottenere anche con i tamponi rapidi non a caso le farmacie specialmente quelle di centro e zona mare si sono attrezzate per ricevere un gran numero di persone che potrebbero voler effettuare questo test ed ora apriamo la nostra pagina legata alla sanità si comincia infatti a parlare di terza dose di vaccino con l'inquadramento delle categorie che anche nelle marche potranno sottoporsi ad un siero che a quanto sembra non potrà più essere astrazeneca e johnson e johnson ma soltanto pfizer o moderna difficilmente i vaccini astrazeneca e johnson e johnson saranno ancora somministrati nelle marche nel 2022 troppi rifiuti troppi i sieri che gli hub vaccinali stanno rispedendo indietro alle unità operative di farmacia clinica nella giornata di oggi sono state riconsegnate 10.000 fiale di astrazeneca che verrà continuato ad essere utilizzato solo per somministrare le seconde dosi a chi ha cominciato la profilassi col siro anglosvedese quanto a johnson e johnson si andrà avanti fino all'esaurimento scorte di un vaccino monodose quasi esaurito che è stato ricevuto da appena 27.000 marchigiani su oltre un milione di cittadini regionali vaccinati si sta dunque prefigurando la tendenza di una futura terza dose nelle marche solo con i vaccini pfizer e moderna terza dose che si appresta a ricevere il via libera dell'agenzia italiana del farmaco per le prime categorie a sei mesi dal secondo richiamo si potrà infatti procedere solo con pfizer e moderna a soggetti fragili anziani ospiti dell'rsa e personale sanitario il tema dei vaccini resta centrale anche in vista della ripresa dell'anno scolastico di mercoledì che intanto ripartirà con la novità dei test salivari agli studenti anche di scuole elementari e medie un test per cercare di monitorare una popolazione scolastica di 106.000 studenti marchigiani under 14 non rivelate al momento le prime scuole che la prossima settimana saranno sottoposte ai tamponi lecca lecca ed è stata una giornata di calo di contagi nella regione marche con 114 nuovi casi che fanno decrescere la percentuale di tamponi positivi al contagio dall'8 al 5 per cento rispetto alla giornata di ieri stabili i ricoveri con 83 pazienti ospedalizzati di cui 23 nelle terapie intensive tornano però a registrarsi decessi di marchigiani contagiati da covid 19 si tratta di due uomini del maceratese un 75enne di morrovalle e un 79enne di treia ed ora la cronaca a muraglia ha infatti destato scalpore un episodio di quindicenni che hanno derubato alcuni coetanei un episodio che soprattutto si mette in fila ad un fenomeno di minori fuori controllo che si sta ripetendo con una frequenza alquanto preoccupante sul tavolo della questura di pesero continuano ad accatastarsi fascicoli di minori fuori controllo l'ultimo episodio è avvenuto mercoledì al parco scarpellini di muraglia quando tre ragazzini fra i 15 e 16 anni hanno derubato zaini e telefonini di tredicenni che stavano giocando a calcio nel parco i ladri in erba si sono sbarazzati delle sim per farsi rendere irrintracciabili ma eludendo solo parzialmente l'app di ritrovamento cellulare attivata dal padre di uno dei derubati così gli agenti della volante sono comunque riusciti ad individuare uno dei responsabili a metterlo alle strette e a rintracciare anche i due complici una bravata può darsi però è un episodio che si mette in coda a quello che aveva visto pochi giorni prima 20 ragazzini a cerchiare e picchiare un adulto in piazza puccini di villa san martino o ai fenomeni di vandalismo e bullismo che mesi prima hanno portato al provvedimento senza precedenti del daspo urbano ad altri minorenni di piazzaredi responsabili però sempre individuati e che non restano impuniti a rimanere però sono i tanti interrogativi in termini di educazione ci sono stati dei fenomeni in alcuni casi da parte di ragazzini per lo più minorenni che hanno che sono andati oltre e complessivamente a pesaro il sistema sicurezza devo dire che ha funzionato e ha funzionato molto bene purtroppo si sono verificati come dicevo alcuni di questi episodi da parte di ragazzi per lo più anche minorenni in alcune zone della città ma in realtà è un fenomeno purtroppo anche abbastanza diffuso nel quale diciamo si è andati oltre si è arrivati anche ad episodi gravi che sono assolutamente da stigmatizzare da condannare in modo molto fermo quando si verificano questi episodi poi come naturale ci sono da parte delle famiglie che vivono nei pressi delle abitazioni che vivono nei pressi di questi parchi c'è una richiesta crescente di telecamere noi su questo stiamo investendo però è anche difficile pensare di avere un presidio simultaneo di tutta la città tramite le telecamere che sono comunque un investimento importante svolgono sicuramente una funzione di deterrenza e su questo quindi andremo avanti sono però episodi sui quali occorre intervenire non soltanto con con la repressione con la sicurezza ma anche con tutto quel mondo che quello della formazione dell'educazione quindi riprendere riassumere un ruolo da che deve farlo devono farlo le famiglie deve fare la società deve farlo la scuola perché non sono non sono delinquenti non sono tutti i delinquenti non sono tutti i criminali sono ragazzi che però devono essere riportati in un percorso in un inserimento di formazione educazione anche di crescita nel rispetto di persone e delle cose sono in arrivo due milioni di euro per realizzare a pesaro il museo nazionale della motocicletta ad annunciarlo oggi è stato il sindaco di pesaro matteo ricci proprio alla vigilia del centodecimo anniversario di un marchio storico pesarese come quello della benelli sarà un luogo dunque quello che nascerà che andrà ad accrescere ulteriormente la tradizione motoristica del territorio a partire dalla collezione morbidelli che è attualmente in mostra al museo officine benelli il museo della motocicletta nascerà all'ex tribunale di pesaro in via san francesco e ci spostiamo ora nell'entroterra e in una delle zone più periferiche in assoluto fra quelle delle aree interne del nostro territorio provinciale si parliamo di serravale di carda nelle comune di apecchio le telecamere di rossini tv sono state infatti in questa area montana che ora è raggiunta dalla banda ultralarga un servizio aggiuntivo che testimonia l'impegno della regione marche a contrasto del digital divide in questo anno abbiamo cercato con un lavoro di sinergia con enel distribuzione con open fiber di accelerare tutti i cantieri e negli ultimi anni negli ultimi mesi sono partiti diversi cantieri in questa regione e in questa provincia io ho chiesto di avere di dare priorità alle aree interne dove la digitalità e il digital device rappresenta davvero un rischio di esclusione sociale e in modo particolare qui a serravale da pecchio c'erano diversi problemi anche con i cantieri con le ditte che hanno lavorato in subappalto per gli infratelli open fiber quindi abbiamo proprio acceso un focus cantiere per cantiere finché questi non si realizzassero e mi fa molto piacere davvero essere qua a serravalle a dire che il primo comune dove ci si può allacciare alla banda ultralarga sia proprio serravale di carda questo è davvero importante è un segnale forte della regione marche della giunta acquaroli che ha voluto dare al territorio e cercheremo con attenzione di far partire tutte le connettività in tutti gli altri comuni che mancano entro un anno saranno tutti collegati si aprono degli scenari completamente nuovi perché questa infrastruttura riduce le distanze apre modalità di lavoro assolutamente efficienti penso al mondo delle imprese dei servizi sanità sociale turismo in ogni campo è un'infrastruttura fondamentale ora dobbiamo costruire noi un contesto collaborativo tra tutti gli operatori per utilizzare al meglio questa infrastruttura ricordo e mi piace sempre farlo l'ho fatto anche nel corso della conferenza stampa che il comune di apecchio fa parte della strategia nazionale delle aree interne nella regione marca dell'area pilota composta da nove comuni di questi nove comuni è quello che ha il parametro di perifericità più spiccato ma anche proprio registra nei documenti valutativi tutta una serie di potenzialità ed in particolare in questo comune la cittadina di serra valle di carda è il luogo più significativo si parla tanto anche di zone decentrate le zone decentrate hanno bisogno di servizi come le zone diciamo più centrali quindi anche questo del questi servizi diciamo tecnologici sono fondamentali anche perché qua tengo sempre a sottolinearlo ci sono aziende importanti non sono zone sperdute senza aziende o senza diciamo ricettori qui sono ci sono aziende importanti che hanno bisogno anche di queste forme diciamo di tecnologia importanti abbiamo realizzato un'infrastruttura in tecnologia ftth quindi con la fibra ottica che arriva fino all'abitazione all'unità immobiliare e che permette una connettività fino a un giga per secondo e si tratta di un'infrastruttura veramente ad oggi è alla base per poter lavorare in smart working in telelavoro e la telemedicina anche streaming tutto quello che ad oggi serve per poter aprirsi e connettersi con con il mondo noi abbiamo un piano di 217 comuni realizzare l'infrastruttura su 217 comuni in tutta la regione Marche e il piano sta andando avanti in maniera molto molto spedita grazie appunto alla collaborazione con con gli enti con la regione Marche in fratelli italia i vari comuni la provincia di pesaro e urbino piange la prematura scomparsa dopo una lunga malattia della responsabile dell'ufficio comunicazione pari opportunità stefania gemignani entrata nell'ente nel 1995 come responsabile dell'ufficio di presidenza stefania gemignani è stata capo di gabinetto dal 2002 al 2004 e anche responsabile organizzativa nel versante della comunicazione istituzionale i funerali si terranno domani sabato 11 settembre alle ore 15 nella chiesa di cristo risorto a pesaro polizia provinciale pronto intervento della provincia e vigili del fuoco hanno chiuso al traffico questa mattina la strada tra novilara e candelara per rimuovere una pianta pericolante sulla carreggiata e consentire dopo qualche ora il ripristino della circolazione stradale in sicurezza viaggio in bosnia delle vice sindaco di pesaro daniele vimini in visita alla città di novigrad sarajevo rafforzando un gemellaggio instaurato nelle 2018 alla scuola alexa santic vimini ha incontrato il sindaco samir efendic e l'ambasciatore italiano in bosnia visita per vimini anche al pavarotti music center dimostra al quale il vice sindaco di pesaro ha donato due biglietti da visita per presentare la nostra città si tratta di una coppia in vinile di oceano adriatico e di un libro di alessandro baronciani e mattie mantanus il 18 e 19 settembre agli orti giulia al museo nazionale rossini si terrà la seconda edizione di papageno festa della musica e dei bambini organizzata dall'associazione libera musica con due giornate in cui i più piccoli potranno esplorare il mondo della musica in modalità differenti ingegnose e interattive taglio del nastro ad una nuova struttura riqualificata al lido pavarotti di baia flaminia nuova struttura che unirà la vocazione sportiva del liceo marconi con le attività nautiche della lega navale ma fornirà anche bagni pubblici nuovi di zecca a servizio soprattutto degli avventuri della spiaggia libera di baia flaminia mesi fa la lungimirante stretta di mano fra lega navale e liceo marconi benedetta da comune di pesore regione marche ha intavolato un progetto risultato meritevole di un finanziamento attraverso il fondo europeo affari marittimi e pesca questa mattina quelle finanziamento si è definitivamente tramuntato nel taglio del nastro ad una nuova struttura sorta su un blocco di servizi prima dismesso e poi demolito inaugurato un nuovo hub in cui la vocazione sportiva del liceo può ora declinarsi nelle attività di vela e canotaggio care alla lega navale è la realizzazione concreta di questo progetto in collaborazione con il liceo scientifico il quale con la sua sezione sport diciamo sport c'ha una branca che pratica lo sport sport nautici veva già attualmente da quanto mi risulta loro si spostano in altre zone per praticare questa attività che qui a pesaro non c'era la possibilità di farlo o perlomeno ritenevano non possibile adesso con questa soluzione loro avranno la possibilità di utilizzare questa zona che noi avevamo in concessione iniziativa che parte da lontano circa tre anni fa abbiamo avuto questa idea venivamo qua a fare lezione di filosofia di fisica e ci mancava un posto dove avere come dire un presidio naturale permanente anche per poterci ad esempio cambiare con l'avvento diciamo dell'indirizzo sportivo poi questo luogo è diventato anche una scuola di vela di canottaggio di attività nautiche acquatiche quindi era naturale per liceo scientifico avere un presidio permanente ci siamo interfacciati con altre amministrazioni pubbliche è andato tutto bene ci hanno creduto ci ha creduto la politica e oggi siamo qua a inaugurare una cosa che sarà un punto cardine una rivoluzione copernicana nella didattica perché noi qui veniamo a fare lezione di tutto non soltanto di vela e sport si tratta però di un blocco di servizi dalla duplice funzione privata con locali e spogliatoi destinati alle attività di soci della lega navale e del liceo marconi e pubblica con la riqualificazione dei bagni necessari soprattutto ai frequentatori della spiaggia libera di baia flaminia un salto in avanti di senso civico applaudito dal sindaco matteo ricci e dall'assessore riccardo pozzi ma anche dall'assessore regionale francesco baldelli che ha elevato liceo e lega come un modello funzionale a ripensare alla maniera in cui pervenire a questi fondi questo significa che la dirigenza del liceo marconi ha avuto una visione a lungo raggio anche dall'insegnamento che ci arriva dalla pandemia dobbiamo ristudiare e ripensare i bandi per l'edilizia scolastica nella nostra regione innanzitutto gli istituti devono essere flessibili nel loro utilizzo anche qui liceo marconi nella città di pesaro ne ha dato un esempio ma soprattutto quegli istituzioni che verranno premiate saranno quelle che penseranno anche agli spazi esterni e concludiamo con lo sport domani sabato 11 settembre e domenica 12 la piscina del parco della pace di pesaro ospiterà la dodicesima edizione dei campionati italiani paralimpici di nuoto fisdir è la prima volta che si tengono questi campionati a pesaro e sono organizzati dalla società sport village saranno presenti diversi nuotatori reduci dalla spedizione paralimpica di tokyo fra i 300 atleti intellettivo relazionali che si presenteranno in vasca a pesaro e viste le numerose richieste pervenute dai tifosi la vispesero ha deciso di fare dietro fronte sugli abbonamenti che inizialmente non erano previsti abbonamenti che invece si faranno come annunciato oggi dalla società e si faranno nei limiti della capienza ridotta dello stadio benelli come da norme da norme anti covid abbonamenti che includeranno 16 partite casalinghe su 18 con la società che si riserva di promuovere due giornate biancorosse i prezzi prevedono per prato e tribuna laterale 120 euro con la tariffa ridotta a 90 euro tribuna centrale coperta 250 euro con 200 euro per la tariffa ridotta a breve verranno comunicate le modalità d'acquisto intanto ricordiamo che la vis giocherà le prossime due gare in trasferta questa domenica alle 17 30 a pescara mentre domenica 19 settembre la squadra pesarese sarà di scena a teramo e con lo sport con questa notizia per gli appassionati della vispesero si conclude questa nostra edizione del telegiornale rossini news prima di salutarci però vi ricordiamo la nostra prima serata e alcuni appuntamenti del weekend prima serata che vi propone due interessanti speciali realizzati da rossini tv cominciamo con la moda veste la pace che premia franco morbidelli dunque un importante premio legato al pilota del consegnato al pilota del nostro territorio franco morbidelli che potrete vedere questa sera su rossini tv alle 21 e 20 a a seguire alle 21 e 40 dalla vigna alla tavola dalla costa all'appennino un mangiare di vino il piacere delle marche in 16 incontri all'insegna del gusto un importante appuntamento che si propone di coniugare un connubio felice tra le nostre cantine e i nostri ristoranti domani alle 10 30 con replica alle 16 la lettura e il commento al vangelo della domenica a cura di don marco di giorgio appuntamento che potrà essere visibile in replica anche alle 8 e alle 11 di domenica mattina e infine vi ricordiamo che l'informazione su rossini tv tornerà puntuale domattina alle 7 e 20 in diretta con antonio astuti in occasione di buongiorno rossini e la lettura dei titoli dei quotidiani locali previsti nella giornata di domani sabato 11 settembre ed è davvero tutto per questa nostra edizione di rossini news da parte mia di tutta la redazione vi auguro un buon weekend e una buona continuazione di serata con i nostri programmi